Attraverso il coding, i ragazzi sviluppano l'attitudine a lavorare per obiettivi ed in gruppo, acquisendo abilità trasversali, quali ad esempio il problem solving. Ricordiamo inoltre che l'utilizzo di Scratch è completamente grafico e dunque l'ambiente di lavoro è estremamente intuitivo. Chiunque può imparare a programmare, spostando solamente dei blocchi colorati che uniti assieme costituiscono la struttura di un programma funzionale. In questo corso, dedicato a tutti gli insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado, realizzeremo una serie di progetti che riguardano Scratch e la musica. Ci saranno tanti spunti interessanti per realizzare progetti educativi attraverso i quali gli studenti possono imparare, collaborando, a sviluppare ed esprimere la loro creatività. Spero che questo videocorso vi piaccia e che possa essere utile per la vostra attività in classe con i ragazzi.